La lista degli esercizi commerciali di Kabuki Chow Che passeranno sotto il controllo di Jack e della sua banda Perché dobbiamo affidargli a loro? Come farò a spiegarlo ai nostri uomini? E inoltre i cinesi non sono affidabili Quel cinese mi ha salvato la vita Per sdebitarmi ho deciso di assegnargli i territori di Gao Lasciamo che siano loro stessi ad amministrare i loro quartieri Inoltre saranno dei preziosi alleati Quando arriveremo alla resa dei conti con il clan Togawa È proprio sicuro? Certo che lo sono Adesso vai Non posso contestare gli ordini del mio capo Ma devi sapere Che io, Nakajima Hiromasa Disprezzo te e tutta la tua gente E fieva! E fieva! Vittoria! 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 Bello, vero? Questo è per me? Sì! Sì! Vittoria! Vittoria! Fratello, vogliamo congratularci con te. Noi vecchi immigrati siamo felici che da oggi in poi sarai tu a proteggerci. Grazie. Entrate pure. Venite, venite! Prego! Sì, sì. Vogliate accettare un regalo da parte del clan di Egussi Toshinari? Un augurio di prosperità. Accettiamo. Portatelo dentro.